Un caro saluto a tutti voi, miei cari fratelli e sorelle, che Dio vi benedica. Per poter approfittare delle domande, inizieremo rapidamente con la lettura della Bibbia, nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo numero 3. Parleremo. Parleremo del Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo e faremo un paragone. Confronteremo il Vangelo del Signore Gesù Cristo con la legge di Mosè e così rivivremo quello che l'Apostolo Paolo imparò direttamente dal Signore, e cioè la dottrina. Con questa lettura cercheremo di analizzare ogni parola in profondità. Sebbene ci siano tante traduzioni, tuttavia il messaggio è lo stesso. Sebbene ci siano tante lingue nel mondo, e tutte magari vogliono tradurre una parola a proprio modo, ma non riusciranno mai comunque a cambiare il messaggio, l'essenza, il tema che Dio, già dal principio, ha voluto trasmetterci, e cioè che noi potessimo avere nelle nostre mani questo libro per imparare le cose di Dio, cosicché non deviarci dalla via del Signore. Così Dio disse a Mosè, scrivi tutto questo in un libro. In quell'epoca erano le pergamene, quindi Mosè scriveva, Dio ordinava a Mosè di scrivere tutte le esperienze vissute quotidianamente con il nostro Dio. Magari anche noi potessimo fare le stesse cose, scrivere le esperienze che noi viviamo con Dio. Certo, nella Bibbia c'è scritta una parte, una parte della scrittura che il Signore vuole lasciare ai Suoi profeti, ai Suoi apostoli, ai Suoi discepoli, per dilettarci a nostra volta. Quindi oggi ci dilettiamo nella seconda epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 3. Qui l'Apostolo Paolo parlava in un certo senso di sé stesso, ma anche di tutti gli altri apostoli, ministri del Signore, e dice Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? Qui l'Apostolo Paolo parlava in prima persona di sé stesso, ma anche per bocca degli altri apostoli. Sembrava che in alcuni posti, in quell'epoca, si avevano bisogno di quelle famose lettere di raccomandazione per vedere se si credeva o no nella parola che i discepoli e gli apostoli stavano predicando. Quindi l'Apostolo reclamava e diceva Ma abbiamo ancora bisogno di raccomandarci con queste lettere alle altre persone? Dobbiamo distribuire ancora queste lettere per essere creduti? No, perché quelle carte, quelle lettere di raccomandazioni, siete voi stessi, voi credenti, la Chiesa, i miracoli che Dio fa continuamente alle persone attraverso di voi. E queste manifestazioni sono migliori rispetto a qualsiasi lettera di raccomandazione. E l'Apostolo voleva trasmettere questo alla Chiesa in Corinto. Per questo, diceva, non c'è più bisogno adesso di quelle lettere di raccomandazioni. Oppure dice, o abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Significa che qui l'Apostolo Paolo diceva La vostra testimonianza è migliore di qualsiasi lettera di raccomandazione. Il Vangelo che voi state predicando è il Vangelo puro del Signore Gesù Cristo ed era migliore di qualsiasi altra raccomandazione. Verso 3 dice Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, Significa con la manifestazione dello Spirito di Dio nella congregazione, nella Chiesa, con miracoli, con segni che Dio stava facendo. Quella era la migliore lettera di raccomandazione, quell'esperienza, quella testimonianza. Quindi è lo Spirito del Dio vivente che si stava muovendo nei cuori delle persone. Era quello che stava testimoniando che Gesù Cristo era una verità, che Gesù Cristo era la verità, era la via verso la quale bisognava andare, percorrere, e che il Signore Gesù Cristo era l'unico intermediario tra l'uomo e Dio. E lo Spirito Santo rendeva testimonianza di tutto ciò. E anche il Signore Gesù Cristo insegnò ai Suoi Apostoli che lo Spirito Santo avrebbe dato testimonianza di Lui, del Signore Gesù Cristo, e che lo Spirito Santo sarebbe stato con la Chiesa, con la congregazione, tutti i giorni e per sempre, per insegnare, per guidare, per orientare, affinché nessuno potesse dire come facciamo per conoscere la via del Signore, come possiamo fare per sapere che stiamo camminando nella verità. Perciò il Signore Gesù Cristo ripetè questo, e cioè che lo Spirito di Dio avrebbe fatto questo lavoro, questo lavoro nella Sua Chiesa. Per questo, chiaramente, il Signore Gesù Cristo disse, me ne vado, ma non vi lascio orfani, vi invierò il Consolatore che starà con voi per sempre. E grazie a Dio, perché oggi noi beneficiamo di questo Spirito Santo e stiamo godendo di queste manifestazioni. Ci sono tante persone che ci chiedono cosa si fa nella vostra Chiesa, cosa si fa nella vostra congregazione, perché arrivano tante persone, perché la gente viene nella vostra congregazione senza programmi, senza fare attività, in un modo disinteressato, senza organizzare eventi, senza organizzare dei viaggi, dei ritiri spirituali, dei banchetti, non si offre nulla al credente. E allora perché la gente ricorre alla vostra Chiesa se non si offre niente a livello materiale? Perché? Perché hanno incontrato il vero cammino, perché lo Spirito Santo si muove in quella gente, quindi non c'è bisogno di cercare dei diversivi, dei divertimenti, qualcosa che ci motive a cercare Dio. No! La motivazione più grande è quella di avere lo Spirito di Dio con noi e in noi. Per questo dice che è lo Spirito del Dio vivente. Poi dice ancora il verso, è non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Quindi lo Spirito Santo viene a dimorare con noi, viene ad abitare nel nostro essere, nel nostro cuore. Questo è quello che l'Apostolo Paolo stava dimostrando, insegnando ai Corinzi. Verso 4. Or, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da chi? Da Dio. Il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto. Non della lettera, ma dello Spirito. Quindi qui sta parlando di un ministero che ci fu nell'antichità. Il ministero che Dio per primo diede a Mosè. E Mosè, a sua volta, insegnò la legge al popolo di Israele. E quel ministero, disse Paolo, stava competendo con quel patto, con quel ministero dell'antichità. Stava fronteggiando quel patto vecchio, mentre il nuovo patto era il Vangelo del Signore Gesù Cristo, la parola della verità. Sempre nel verso 6. Non della lettera, ma dello Spirito. Poiché la lettera uccide. Quindi quando qui si parla non della lettera, significa non della legge di Mosè, ma dello Spirito di Dio. Poiché la lettera, cioè la legge di Mosè, uccide. Infatti questo è quello che è accaduto a causa della legge di Mosè. La legge uccise tutto il popolo. Perché? Perché la legge scritta sulle tavole di pietra doveva essere compiuta alla lettera, punto dopo punto. Quindi tutti i requisiti della legge dovevano essere compiuti, ma nessuno fu in grado di compiere la legge di Mosè. Perciò, siccome nessuno riuscì a compiere la legge, tutti furono destituiti dalla gloria di Dio e finire nella perdizione, destituiti dalla gloria di Dio, perdendo così la possibilità della vita eterna. Ma arriva il nuovo patto, arriva un nuovo ministero, arriva Gesù Cristo e dice ora c'è un nuovo patto, il Vangelo e tutti compiranno il Vangelo. Cos'è che fece però per primo il Signore Gesù Cristo? Compiere tutta la legge di Mosè così che Lui ci ha liberati da quella legge annullandola una volta per tutte dopo averla compiuta e ci ha dato una via più facile per poterci salvare e arrivare ad abitare con Dio. Questo è quello che fece il Signore e qui l'Apostolo Paolo insegnava e rimarcava questo cioè sulla differenza tra la legge di Mosè la legge quindi antica quando qui parla della lettera che uccide uccide l'anima perché chi non compiva la legge di Mosè era come se fosse morto non riusciva a compierla mentre chi avrebbe compiuto tutta la legge e sarebbe sopravvissuto ma ciò non accadde quando qui dice che la lettera uccide significa morire nell'anima quindi ripeto il verso 6 dopo la virgola poiché la lettera uccide ma lo Spirito di Dio dà vita il Vangelo è lo Spirito di Dio che lavora nei cuori degli esseri umani lo Spirito di Dio è lo stesso Signore Gesù Cristo è lo stesso Vangelo puro è la parola vivente del Signore questa è la libertà il Vangelo di Gesù Cristo è la libertà lo Spirito Santo è colui che sta lavorando lo Spirito Santo diede testimonianza agli antichi che sarebbe arrivato in futuro un precursore un re un salvatore lo Spirito Santo inoltre parlò a Giovanni Giovanni il Battista gli parlò ehi lo Spirito Santo venne anche ad abitare nel cuore degli apostoli per far loro credere per far loro capire chi fosse il Signore Gesù Cristo e tutto ciò fu opera dello Spirito di Dio o dello Spirito Santo che è la stessa cosa perciò noi vediamo il lavoro di questa opera redentrice di Cristo lui non ci ha lasciati soli lui non è sparito anzi ha inviato il suo Spirito la sua potenza e nel verso numero 7 dice or se il ministero della morte che si riferiva alla legge di Mosè che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso perché quel ministero in realtà fu glorioso perché Dio si manifestava faceva miracoli segni Dio parlò ai grandi uomini antichi ai grandi personaggi Dio diede vittoria alle battaglie durante le guerre al popolo di Israele Dio si manifestò grandemente lui si manifestò nei profeti in quegli uomini che credettero in Dio quindi il ministero della legge di Mosè fu glorioso ma poi vediamo cosa dice più avanti fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata significa che quella gloria della legge di Mosè e la gloria che aveva sul volto Mosè doveva sparire chi doveva sparire Mosè o la legge entrambe le cose la legge di Mosè avrebbe avuto una fine e anche Mosè come essere umano ebbe una fine tuttavia la gloria che il popolo vedeva nel volto di Mosè è perché Mosè era insieme a Dio e stava imparando la legge per poi insegnarla a sua volta al popolo di Israele una gloria così grande copriva il volto di Mosè che il popolo non riusciva a guardare direttamente il volto di Mosè ma cos'è che succede nel verso 8 quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito allora rispetto alla legge di Mosè quindi se la legge di Mosè fu gloriosa perché Dio si manifestava ma fu annullata però tuttavia prima di essere annullata fu conosciuta in tutte le nazioni perché tutte le nazioni sapevano che il Dio di Israele era un Dio potente e grande e tutti volevano volevano conoscere quel personaggio Mosè tutti volevano conoscere Israele perché si diceva che era un popolo prediletto privilegiato quindi il popolo di Israele viveva nella gloria a motivo della parola di Dio data da Mosè perché Mosè stette sul monte Sinai tuttavia un giorno quella legge dovette essere annullata e venne un altro patto un altro ministero un nuovo ministero cioè il Vangelo di Gesù Cristo e dice nell'8 quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito rispetto alla legge di Mosè quindi il ministero del Vangelo del Signore Gesù Cristo quel ministero fu e sarà superiore glorioso rispetto alla legge di Mosè noi ringraziamo il Signore per questo di questo privilegio grazie per questa benedizione così grande perché noi non possiamo dimensionare non siamo capaci di misurare la magnificenza di quello che Dio ci ha dato di quello che Dio ci sta facendo vivere sebbene sia poco perché non siamo in grado a livello umano di quantificare la grandezza di Dio ma questa è la sua gloria e la sua grandezza lui ci invita e ci dice che se vogliamo vivere più esperienze con lui dobbiamo ogni giorno essere attaccati al Signore e disporre il nostro cuore e allontanarci da tante cose che non ci convengono per poter vedere di più la gloria di Dio nel suo Vangelo gloria Signore questa è l'opera dello Spirito Santo o lo Spirito di Dio che si muove in noi con questo lavoro meraviglioso dice nel verso 9 leggete voi il verso 9 apprezziamo questo diamogli valore non rimaniamo troppo meditativi pensierosi osservando guardando il mondo e basta in uno stato solamente contemplativo poi magari andiamo in chiesa con pigrizia con sonno senza aver fiducia in Dio senza aspettare le sue promesse facciamo le cose tanto per fare cantiamo tanto per cantare apro la bocca per cantare ma come canto non batto le mani perché mi vedono che sto battendo le mani non do la gloria a Dio perché sì magari le persone mi guardano io ho vergogna così così siamo noi distratti non abbiamo capito non abbiamo compreso la magnificenza di Dio quello che Dio ci sta dando quello che abbiamo quello che abbiamo vissuto le nostre esperienze spirituali che abbiamo vissuto con Dio non le sappiamo apprezzare né dare loro valore e se noi invece apprezzassimo di più saremmo diversi e sicuramente Dio ci avrebbe dato più lavoro e sicuramente voi sapreste come predicare come insegnare fareste anche miracoli restaurereste anche delle vite spirituali dareste anche allegria a tante persone voi vedreste i segni che Dio fa con ciascuno di voi perciò per ottenere questo bisogna apprezzare dare valore a quello che Dio ci ha dato il posto dove il Signore ci ha collocati e cercare quella parte profonda di Dio dice nel verso 10 per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso cioè sta parlando della legge di Mosè si è messo a confronto con la più eccellente gloria del Vangelo il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo nel suo Apogeo e quando diciamo che il Vangelo del Signore Gesù Cristo è nell'Apogeo vuol dire che lo Spirito di Dio si muove in ogni cuore in ogni vita e sta concedendo doni sta facendo miracoli sta facendo tanti segni affinché voi possiate essere edificati nella vostra vita spirituale crescere parlare lavorare servire il Signore e predicare a tante persone perché ci sono milioni di persone che non conoscono Dio non sanno chi è Dio e loro ne hanno bisogno e questo è il lavoro che Dio ci ha dato il Signore ci ha comandato di lavorare in questo modo di evangelizzare verso 11 perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso cioè se ciò che doveva essere annullato la legge di Mosè fu glorioso quel patto antico sarà molto più glorioso ciò che è duraturo e cos'è che è duraturo? Che cosa? La salvezza che il Signore ci sta offrendo tramite il Vangelo lui è morto sulla croce del Calvario per salvarci per salvarci il Signore stette con i discepoli insegnò loro e disse adesso fate voi il mio lavoro vi darò potenza sostegno facoltà per poter fare questo lavoro meraviglioso e poi dopo i discepoli arrivò lo Spirito Santo che ha continuato a lavorare in Chiesa dopo che sono morti gli Apostoli la Chiesa non è finita perché alcuni dissero così che lo Spirito Santo si è addormentato o che si è nascosto in un qualche posto gli Apostoli morirono perché erano delle persone fisiche erano fatti di materia fecero il loro lavoro quello che Dio comandò loro di fare compirono con il mandato del Signore tuttavia lo Spirito del Signore continuò a vivere e continua a vivere e lo Spirito di Dio vuole che noi siamo i Suoi successori i successori di quei grandi uomini di quegli Apostoli che diedero la loro vita per il Signore e dice nel verso numero 12 avendo dunque questa speranza usiamo una grande franchezza nel parlare e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato ma le loro menti cioè le menti del popolo antico sono diventate ottuse oppure si sono ottenebrate infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il velo viene annullato in Cristo qui l'Apostolo Paolo aveva tutte le ragioni perché anche oggi accade la stessa cosa noi potremmo dire le stesse cose anche oggi perché anche oggi le persone hanno lo stesso velo come nell'antichità sul volto sugli occhi perché continuano a non credere nel Signore Gesù Cristo nel Salvatore hanno questo velo e non credono in questo Salvatore in questo Re pensando che Lui è un uomo qualsiasi che fu sì un uomo qualsiasi che fu un qualsiasi profeta che fece delle opere buone e basta ma non è così perché Lui Signore Gesù Cristo oggi vive nello Spirito di Dio oggi lo Spirito Santo è vivente perché in Lui c'è il Figlio di Dio lo stesso Signore Gesù Cristo 15 anzi fino ad oggi quando si legge Mosè un velo rimane sul loro cuore ma quando Israele si sarà convertito al Signore il velo sarà rimosso quando ci si converte al Signore Gesù Cristo quando si crede nel Signore Gesù Cristo il velo viene rimosso 17 or il Signore è lo Spirito il Signore Gesù Cristo è lo Spirito di Dio oppure il Signore Gesù Cristo è lo Spirito Santo e dov'è lo Spirito del Signore oppure dove si trova il Signore Gesù Cristo lì cos'è che c'è lì lì vi è libertà qui non dice che dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà libertà per pregare o lodare il Signore no qui sta dicendo che dove c'è lo Spirito di Dio c'è una libertà rispetto ad una schiavitù del passato perché il ministero dell'antichità cioè la legge di Mosè conduceva la schiavitù per tutti erano come prigionieri o schiavi del peccato schiavi del diavolo non poterono compiere le regole della legge furono sempre degli infrattori della legge per questo motivo quel ministero la legge di Mosè non diede la salvezza erano schiavi ma quando venne il Signore Gesù Cristo venne a portare la libertà e Gesù Cristo siccome è lo Spirito di Dio portò la libertà agli esseri umani ma cosa significa questa libertà significa il libertinaggio no non è il libertinaggio la libertà significa il Signore Gesù Cristo ha detto adesso non rispettate tutte quelle tradizioni come nella legge di Mosè rispettate il sabato non fate questo di sabato non mangiate questo non bevete quell'altro no perché questa è una schiavitù non mangiate quel cibo piuttosto che un altro perché nessuno riuscì a compiere ora diceva il Signore Gesù Cristo è sufficiente che voi crediate nel Signore Gesù Cristo che Lui è la via che conduce la vita eterna che Lui è il Figlio di Dio che Gesù Cristo è il Salvatore e una volta che credete in Lui Lui immediatamente concede il suo Santo Spirito alla persona e lo Spirito Santo discende in quella persona nel cuore di quella persona e la trasforma poco a poco quella persona inizia a cambiare perché lo Spirito Santo entra nella vita di quella persona e le toglie la voglia di peccare toglie il materialismo il peccato le passioni che danneggiano tutto questo è quello che fa lo Spirito Santo è l'opera di Dio è l'opera del Signore Gesù Cristo e questo si chiama il Vangelo puro del Signore Gesù Cristo e qui l'Apostolo Paolo dice or il Signore è lo Spirito e dov'è è lo Spirito del Signore lì vi è libertà significa che una persona uomo o donna che sia sono liberi dal diavolo non sono più schiavi del diavolo perché lo Spirito Santo o il Signore Gesù Cristo entra nel suo cuore e lo cambia una persona comincia a cambiare senza che nessuno le dica nulla quella persona comincia ad allontanarsi da cose che non piacciono al Signore così poco a poco diventa una persona libera non è più schiava del diavolo schiava del peccato è una persona libera che libertà dà al Signore il Signore mi ha resa una persona libera io ero come incatenata ai vizi legati sì alla malvagità avevo un cuore brutto non avevo dei valori ma Gesù Cristo suo Santo Spirito lo Spirito di Dio mi ha fatto rinascere di nuovo bisogna rinascere di nuovo e così arriva la libertà nella nostra vita essere liberi e non essere più schiavi né del diavolo né del peccato perché Gesù Cristo o lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio vive con noi dimora in noi e Lui poco a poco ci pulisce così che il diavolo non può più far nulla contro di noi questo è quello che dice il verso 17 ripeto or il Signore è lo Spirito e dov'è lo Spirito del Signore lì vi è libertà significa che c'è libertà nel cuore dell'uomo o di una donna 18 e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore quindi noi vivremo un'evoluzione spirituale progrediremo ogni giorno e saremo trasformati di gloria in gloria qual è la gloria che voi avete oggi in questo momento cos'è una gloria che poi che voi potete avere ah io mi sono convertito mi sono battezzato in acqua ho smesso di peccare il Signore mi ha cambiato avevo quel vizio e non ce l'ho più questa è una gloria che già voi avete però il Signore poi successivamente mi ha battezzata col suo Santo Spirito adesso profetizzo ha altra gloria ah però io ho letto tanta Bibbia ho imparato tanta dottrina il Signore mi sta rivelando insegnando mi sta dando capacità e io ho insegnato a mia volta alla mia famiglia tanta dottrina e sono diventati felici queste persone che mi hanno ascoltato quindi questa è un'altra gloria che si aggiunge alla nostra vita spirituale io vado in chiesa impongo le mani e tante persone hanno testimoniato che sono guarite con l'imposizione delle mani altra gloria poi avevo tanti vizi sì tanti vizi avevo vivevo nel peccato sentivo tanta invidia rancore ma il Signore mi ha tolto tutto questo ora sono una persona libera da tutte queste cose ha altra gloria in più che avete nella vostra vita spirituale quindi dice saremo trasformati di gloria in gloria fino a quando arriveremo alla perfezione perché Gesù Cristo promise e lui disse che la sua chiesa l'avrebbe santificata l'avrebbe perfezionata perché lui vuole una chiesa perfetta senza macchia senza ruga e così presentarla a se stesso un giorno alle nozze dell'agnello quindi queste sono le glorie quante glorie voi avete contatele da quando avete conosciuto quest'opera meravigliosa contate la gloria da quando avete conosciuto questa chiesa dalle esperienze che avete vissuto elencate le vostre glorie e poi elencate anche quelle che arriveranno più avanti nella vostra vita quotidiana queste sono le glorie che ognuno di noi ha e c'è una parte della Bibbia in cui l'Apostolo Paolo diceva una cosa è la gloria del sole una cosa è la gloria della luna una cosa è la gloria delle stelle perché ogni corpo ha la propria gloria ma poi ci si chiedeva che cos'è la gloria adesso avete capito che cos'è una gloria quanti doni spirituali avete voi il Signore qualcuno dirà mi ha dato sei doni spirituali quei sei doni sono sei glorie che voi avete nella vostra vita spirituale il cambiamento della vostra vita è un'altra gloria il modo in cui il Signore vi usa per profetizzare per parlare per imporre le mani per guarire è un'altra gloria la dottrina che avete imparato è un'altra gloria contate le glorie che Dio vi ha dato ecco noi siamo trasformati di gloria in gloria nella stessa immagine di Gesù Cristo e chi fa quest'opera? lo Spirito Santo lo Spirito di Dio che è il nostro pastore pastore che noi abbiamo qui nella nostra congregazione Lui ci sta facendo ci sta insegnando ci sta guidando ci sta orientando lasciamoci guidare da Lui lasciamoci insegnare da Lui per questo si diceva nell'antichità il Signore attraverso un profeta e tutti saranno insegnati da Dio gloria al Signore e si sta compiendo questo verso perché lo Spirito Santo ci sta insegnando gloria a Dio grazie al nostro Padre Celeste ora si iniziamo con alcune domande buonasera sorella Maria Luisa le diamo la benvenuta a lei e a tutta la sua comitiva la mia domanda si trova nella Bibbia leggerò in Matteo capitolo 21 versi 20 e 21 il verso 20 dice e vedendo ciò i discepoli si meravigliarono e dissero come mai il fico si è seccato all'istante e Gesù rispondendo disse loro in verità vi dico che se avete fede e non dubitiate non solo farete ciò che io ho fatto al fico ma se anche dicesse a questo monte levati di lì e gettati nel mare ciò verrà poi leggerò in Giovanni capitolo 14 verso 12 Giovanni Giovanni capitolo 14 verso 12 in verità in verità vi dico chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio anzi ne farà di più grandi di queste perché io vado al padre mio quando il signore Gesù Cristo maledisse il fico lo fa perché aveva la convinzione e l'autorizzazione da parte di Dio quindi maledisse e il fico si è seccato ciò significa che il signore credete accettò e deve fede furono molti miracoli che il signore fece attraverso gli apostoli per esempio quando l'apostolo Pietro gli disse allo zoppo alzati e cammina allora lo zoppo si mise a camminare dunque sorella quando i discepoli stavano con il signore Gesù Cristo in quel momento forse non avevano abbastanza convizione o fede per fare i miracoli perché dopo la morte del signore Gesù Cristo loro hanno cominciato a fare i miracoli inoltre sappiamo che la fede è credere e uvidire ma quanti tipi di fede ci sono sorella che il signore la benedica quando il signore Gesù Cristo rimprovera riguardo al fico seccato succede che gli fecero questa domanda al signore Gesù Cristo perché il fico è seccato e Gesù Cristo rispose ma voi dubitate infatti voi apostoli diceva il signore Gesù Cristo non avete la convinzione sufficiente sì voi mi seguite mi ascoltate imparate la dottrina però loro erano ancora dei giudei provenivano dal popolo dei giudei per questo il signore Gesù Cristo quando fu crocifisso tutti fuggirono quel giorno si nascosero perché ebbero paura ebbero incertezza insicurezza e il signore vide tutto ciò nei suoi discepoli essi dubitavano ma dubitavano di che cosa dubitavano che Gesù Cristo fosse il figlio di Dio che fosse Dio stesso che fosse quel personaggio che i profeti avevano promesso promesso che sarebbe arrivato in futuro perché Dio fece questo attraverso i profeti dissero arriva un salvatore arriva il re però i discepoli avevano quel dubbio per questo il signore diceva voi dubitate e il signore inviò i discepoli di due in due ad evangelizzare a fare miracoli a fare segni però i discepoli dicevano ma i demoni non si sottomettono a noi e infatti Gesù poi diceva a loro ma non avete abbastanza convinzione infatti gli apostoli i discepoli non riuscirono a sottomettere alcuni demoni e Gesù vide tutta questa insicurezza e rimproverò i suoi discepoli tuttavia il signore Gesù Cristo sapeva che una volta che lui fosse asceso al cielo lui avrebbe tolto quel velo quella benda che essi avevano e avrebbero capito meglio la verità di Dio e chi fosse stato in realtà il signore Gesù Cristo infatti dopo la morte del signore Gesù Cristo i discepoli si lamentano perché non avevano avuto quella convinzione quella certezza quando camminarono insieme al signore Gesù Cristo quando fu in carne ed ossa sulla terra questo è accaduto e poi qui il signore quando parla a Giovanni dice le stesse cose dice chi crede in me cioè nel signore Gesù Cristo farà anche le opere che io faccio chi crederà in me piuttosto per il futuro farà le stesse opere cioè i miracoli prodigi segni tutto quello che Gesù fece insegnare la dottrina e chi crede in me farà anche egli le mie stesse opere il mio stesso lavoro perché questo era il sostegno le facoltà e la potenza che Dio avrebbe dato ai Suoi credenti quindi gli apostoli cominciarono ad avere convinzione e sicurezza dopo che il signore Gesù Cristo ascese al cielo perché una volta asceso al cielo il signore tolse la benda il velo che avevano di fronte ai loro occhi e così poi gli apostoli e i discepoli credettero così tanto che alla fine diedero la propria vita per difendere la causa del Vangelo del signore Gesù Cristo bene andiamo avanti buonasera sorella Maria Luisa che il signore la benedica li porto i saluti dalla chiesa di Atlante di Uruguay la mia domanda si trova in Apocalisse capitolo 12 verso 1 sì Apocalisse capitolo 12 verso 1 poi apparve nel cielo un gran segno una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle sorella la mia domanda è questo verso parla della chiesa parla della chiesa del signore Gesù Cristo la chiesa del signore Gesù Cristo si formò con le 12 tribù di Israele Giacobbe ebbe 12 figli e Dio disse a Giacobbe non ti chiamerai più Giacobbe bensì Israele e i suoi 12 figli formarono 12 tribù che simboleggiavano la chiesa del signore per questo quando il signore Gesù Cristo fondò la sua chiesa la iniziò con i 12 apostoli e da lì in poi per esempio qui in Apocalisse quando dice una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle si riferiva alla chiesa ma quella chiesa del signore esisteva già prima della fondazione del mondo perché la chiesa esisteva già con Dio poi il signore quando creò l'umanità materializzò ogni cosa e l'essere umano cominciò a vivere la propria vita ma la chiesa esisteva già esisteva già a livello spirituale poi si materializza nella vita quotidiana degli esseri umani nella chiesa a livello materiale tuttavia la chiesa già esisteva anche nel passato anche nel passato c'erano dei personaggi come Mattusalemme Enoch poi arriva Mosè poi il popolo di Israele già in loro c'era comunque l'essenza della chiesa poi arrivano il residuo i rimanenti già lì c'era la chiesa quindi vedete la chiesa era già nella loro mentalità dei personaggi antichi era nel piano di Dio era sì nel gruppo del residuo in personaggi antichi ma loro non lo sapevano non sapevano che loro portavano in sé un'opera grandiosa un tabernacolo una chiesa questa è la chiesa del Signore che già esisteva a livello spirituale poi il Signore l'ha materializzata e qui in Apocalisse il Signore dà una visione a Giovanni che vede una donna vestita di sole che scende dal cielo è la chiesa del Signore Gesù Cristo è il modo in cui Dio ingrandirà la sua chiesa e oggi la chiesa si riflette in noi perché il Signore vuole che noi stiamo alla sua presenza il Signore vuole che noi siamo capaci di arrivare fino alla fine della nostra vita finché si compia quel verso che dice chi persevera e arriva alla fine lui o lei saranno la mia chiesa e noi siamo qui portando in noi nel nostro cuore nel profondo del nostro cuore la chiesa e le promesse che Dio ci ha fatto e ci farà la chiesa è con noi è in noi e cammina con noi per questo dobbiamo apprezzare cambiare disporci per Dio per vivere una vita santa una vita decorosa davanti a Dio e che facciamo cose per bene perché Lui se lo merita Dio se lo merita bene andiamo avanti con un'altra domanda sorella Maria Luisa io ringrazio Dio perché ci ha permesso di tenerla qui tra di noi la mia domanda si trova in Galati capitolo 3 Galati capitolo 3 che verso? verso 19 sì la parola del Signore dice così perché dunque fu data la legge? essa fu aggiunta a causa delle transgressioni finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore dunque la mia domanda è chi sono questi angeli? lei sorella è uno di loro? poi nel verso 20 dice ora il mediatore non è mediatore di uno solo vuol dire che ci sono altri? magari altri come apostoli o siamo stati chiamati per servire Dio perché dice che non è mediatore di uno solo ma Dio è uno sorella ci può insegnare questo verso Galati capitolo 3 verso 19 dice perché dunque fu data la legge? pertanto essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni che si commisero già dall'epoca di Adamo già da Adamo il peccato cominciò a manifestarsi la gente si moltiplicò e anche a sua volta il peccato si moltiplicò sulla terra fino a quando Dio decise di mandare un diluvio perché c'era tanta malvagità e tanto peccato e quindi dice perché dunque fu data la legge essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni o del peccato o della malvagità dell'uomo fino a quando fino a che venne una semenza chiamata Cristo Gesù fino a quando è arrivato sì il Signore Gesù Cristo e quindi quella promessa qui dice essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché fosse venuta la discendenza cioè il Signore Gesù Cristo a cui era stata fatta la promessa essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore quindi la sua discendenza sarebbe stata benedetta per sempre e questa discendenza è il Signore Gesù Cristo che fu una promessa una promessa ordinata o promulgata per mezzo degli angeli e questo mediatore fu Mosè nel 20 o il mediatore non è il mediatore di uno solo ma Dio è uno significa che non era solamente per una persona quella promessa non è che solamente una persona sarebbe stata beneficiata di quella promessa ma tanti sarebbero stati beneficiati da quella promessa da quella benedizione che Dio avrebbe inviato al mondo e che fu Gesù Cristo inviato per cosa? Per formare una Chiesa per formare un popolo santo perfetto davanti a Dio per essere benedetto per sempre così come Dio disse ad Abramo la tua discendenza sarà per sempre e sarà benedetta e farò di te una nazione molto grande e ti benedirò per sempre nella tua discendenza quindi questa è una benedizione di Dio e quindi questo mediatore non è un mediatore di uno solo ma Dio è uno certo Dio è uno il mediatore in principio come abbiamo detto fu Mosè poi l'unico vero mediatore in futuro fu il Signore Gesù Cristo qui comunque dice che la legge non fu malvagia è stato un mezzo che il Signore ha dato a disposizione per il popolo anche noi avremmo potuto vivere nella legge di Mosè anche noi noi avremmo potuto vivere come il popolo di Israele tuttavia grazie al Signore Gesù Cristo la nostra vita non è così ecco perché è importante che fosse venuta la legge per imparare per far sì che le persone imparassero prima di tutto che cos'è la legge cosa bisogna fare cosa non bisogna fare preparare le persone facendole sottomettere a dei requisiti a degli ordini sì a dei comandamenti di Dio a livello materiale per ottenere la salvezza ma siccome quelle regole fallirono allora viene il vero salvatore il vero salvatore viene viene quella discendenza che è il Signore Gesù Cristo che avrebbe fatto un'opera perfetta ma serviva prima la parte materiale per compiere quello che oggi noi stiamo vivendo e la sua chiesa oggi deve essere perfetta e se Dio l'ha detto così sarà ecco perché fu importante la legge di Mosè per insegnare fu un cammino attraverso il quale tutti alla fine siamo passati per quel cammino perché conosciamo i peccati tramite la legge di Mosè per poter arrivare oggi alla vera benedizione e a conoscere il Vangelo e noi ringraziamo Dio per questo bene andiamo avanti buonasera sorella Maria Luisa la mia domanda se lei me lo permette si trova nel libro dei numeri capitolo 32 versi 1 5 e 6 sì posso leggere sorella dice ora i figli di Ruben e i figli di Gad avevano un'enorme quantità di bestiame e quando videro che il paese di Jasser e il paese di Galad erano un luogo adatto per allevare bestiame leggero verso 5 dissero ancora se abbiamo trovato grazie ai tuoi occhi questo paese sia concesso in proprietà ai tuoi servi e non farci passare il Giordano ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben dovrebbero i vostri fratelli andare in guerra mentre voi venestate qui sorella vediamo come anche Mosè disse a loro che dovevano attraversare il Giordano per andare e lottare insieme ai suoi fratelli affinché loro possano conquistare la terra di Canaan vediamo come i figli di Ruben e Gad sono stati facilisti ma poi alla fine della storia secondo me loro hanno fallito perché sono rimasti in un luogo lontano dal tempio dove ogni anno dovevano portare gli olocausi per il sacrificio dunque sorella questo proposito ci può insegnare riguardo al facilismo inoltre sorella quando il Signore ci fa la promessa di un nuovo lavoro il quale ci permette di una formazione professionale la quale richiede molto tempo e molto sforzo e a motivo di questo non ci resta tempo per servirle il Signore questo dispiacerebbe il Signore e se scegliamo un'altra cosa dentro la stessa professione ma più semplice che richiede meno sforzo questo lo possiamo chiamare facilismo grazie sorella che il Signore la benedica bene no non ha nulla a che vedere lo studio lei parla sì di essere facilisti erano persone materialiste perché stavano scegliendo la terra più fertile il miglior posto tutto ciò che era sulle rive del fiume ma nemmeno loro sapevano dove Dio avrebbe installato il suo tabernacolo in quell'epoca prima di arrivare alla terra promessa quando erano tutti seduti sulla riva del fiume Giordano essi pensavano solamente alla parte materiale alla terra fertile dove potevano seminare dove c'era i migliori raccolti i migliori frutti questo pensarono eh sì non pensarono mai che Dio avrebbe stabilito una città dove porre il suo tempio il suo tabernacolo perché ognuno di loro cercava la parte materiale questo accade a quella tribù poi dovete affrontare altre tribù in guerra ma qui la sorella dice anche che oggigiorno studiare lavorare cercare magari la via più facile in un breve tempo no questo non si può chiamare facilismo perché magari una persona deve anche tenere in considerazione le proprie possibilità economiche il proprio tempo il proprio denaro quindi non sta peccando non sta sbagliando se sceglie una via più breve no sta cercando la propria comodità per quanto riguarda anche la parte economica la parte che riguarda il suo tempo e tutti i compromessi che ha nella propria vita è questo quindi il facilismo magari può significare un'altra cosa significa che uno non vuole sforzarsi nulla nella vita per niente è sempre pigro vuole che tutti gli altri facciano le cose per lui però scegliere uno studio o un percorso un po' più facile non ha a che vedere col facilismo sorella le porto i saluti dei fratelli di Vraintos Sarasota e le facciamo l'invito per visitarci sorella vorrei leggere nel libro di Apocalisse capitolo 20 verso 12 posso leggere? Sì fratello e vedi i morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio e i libri furono aperti e fu aperto un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere adesso leggerò Salmo 1 verso 4 non così sono gli empi ma sono come pule che il vento disperde perciò gli empi non reggeranno nel giudizio nei peccatori nell'assemblea dei giusti sorella sono un po' confuso perché in Apocalisse dice che tutti saranno giudicati morti piccoli e grandi ma poi nel Salmo 1 verso 4 dice che gli empi non reggeranno nel giudizio perciò sorella ci può insegnare leggiamo il Salmo 1 Salmo 1 quello che abbiamo letto in Apocalisse si riferisce alla fine alla fine del mondo e dice che alla fine del mondo risusciteranno alcuni per la vita eterna altri continueranno a vivere nella perdizione arriveranno al lago di fuoco questo è il giudizio finale di cui parla in Apocalisse qui in Salmo 1 dice però per poter capire bene il verso 4 leggiamo dall'1 dice beato l'uomo che non cammina nei consigli degli empi cioè non pecca non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori quindi non fa opere malvagie due ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno nella parola di Dio e sulla sua legge medita giorno e notte cioè medita nel Signore e poi fa un paragone dice egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà a quest'uomo a questa donna che è come un albero quindi il Signore Gesù Cristo disse imitatemi fate quello che io faccio e così anche voi prospererete questo è l'invito che il Signore fa uomini donne credenti seguitemi i passi per essere quegli alberi piantati lungo i rivi d'acqua che danno il loro frutto nella sua stagione infatti una persona che vive bene davanti a Dio poi Dio usa quella persona quella persona dà una bella testimonianza e dà frutti per Dio perché cammina con Dio vive con Dio e poi dice al contrario cos'è che succede agli empi nel 4 non così sono gli empi loro non sono come quegli alberi piantati lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione gli empi no loro sono come pula che il vento disperde quindi come la punta dei cereali quando arriva il vento la punta per esempio del frumento del grano viene agitato e quella pula siccome è leggera finisce nel vento si sparge nel vento così sono gli empi cinque perciò gli empi non reggeranno nel giudizio nel giudizio finale loro non parteciperanno né i peccatori nell'assemblea dei giusti perché hanno compiuto del male quindi non hanno né arte né parte nelle cose belle che Dio ha per i suoi prescelti perciò dice perciò gli empi non reggeranno nel giudizio né i peccatori che sono gli stessi malvagi nell'assemblea dei giusti significa che gli empi e i peccatori nemmeno essi potranno occupare un posto nella congregazione dei figli di Dio dei prescelti di Dio degli eletti perché questi peccatori non possono mischiarsi con i figli di Dio perché il Signore toglie quei peccatori c'è una parabola che dice che un padre di famiglia ha fatto un banchetto nuziale ha invitato tante persone quando erano tutti all'interno del banchetto della festa c'era una persona che non era vestita a nozze significa che quella persona non era invitata quindi era come se non stesse vivendo una vita retta davanti al Signore e quindi il padrone di casa disse non sei vestito a nozze perciò battene quindi si chiusero le porte questa parabola è un esempio che il Signore Gesù Cristo ha lasciato riferendosi alla sua chiesa ai suoi credenti ai suoi eletti i figli di Dio la chiesa del Signore deve essere formata da uomini e donne che vivono una vita retta santa davanti a Dio e che lì non ci si possono mischiare i peccatori perché se c'è un peccatore Dio lo fa uscire perché non può essere partecipe delle benedizioni che Dio ha per i suoi figli per questo motivo qui dice gli empi non reggeranno nel giudizio nei peccatori nell'assemblea dei giusti non possono perché Dio li caccia dall'assemblea dei giusti perché nell'assemblea dei giusti ci sono solo dei letti da Dio la sua chiesa perfetta con credenti che fanno del bene sei poiché l'Eterno conosce la via dei giusti ma la via degli empi porta alla rovina quindi noi ci sforziamo lottiamo affinché ogni giorno sia migliore affinché ogni giorno la nostra gloria abbondi e siamo trasformati in perfezione così stare sempre nella congregazione di Dio e Dio non ci debba espellere dal suo luogo bene andiamo avanti buonasera sorella Maria Luisa che il Signore la benedica l'amo nel Signore la mia domanda si trova in Geremia capitolo 27 dal verso 6 dice e ora ho dato tutti questi paesi in mano di Nabucodonestar re di Babilonia mio servo a lui ho pure dato le vestie della campagna perché lo servano così tutte le nazioni serviranno a lui a suo figlio e al figlio di suo figlio finché verrà il tempo anche per il suo paese allora molte nazioni e re potenti lo ridurranno in servitù e avverrà che la nazione o il reino che non vorrà servire a lui a Nabucodonestar re di Babilonia e non vorrà porre il suo colo sotto il gioco del re di Babilonia quella nazione io la punirò dice l'Eterno con la spada con la fame con la peste finché non li abbia sterminati per mano sua e la mia domanda è perché il signore chiama a Nabucodonestar mio servo sì il servo non significa che è un servo atto a fare del bene il signore detiene il re di Babilonia come suo servo ma per fare del male al popolo di Israele fu sì servo di Dio per esempio in un altro luogo il servo è un inserviente viene chiamato così ma questo servo riceve ordini dal suo superiore e il signore tenne il re di Babilonia come suo servo e il re di Babilonia si sottomise alla volontà di Dio di quel momento e infatti Dio voleva che il re di Babilonia attaccasse gli israeliti e il re di Babilonia lo fece quindi in quell'aspetto il re di Babilonia fu servo di Dio per castigare il popolo di Israele per fare del male al popolo di Israele noi ci ricordiamo che negli altri studi biblici abbiamo parlato del re di Babilonia di come distrusse la città di Gerusalemme lì il re di Babilonia lavorava come servo di Dio un servo serve a qualcuno appunto ma non fu un servo buono per fare del bene ma Dio lo usò come un servo o un inserviente per castigare il suo stesso popolo quindi il re di Babilonia fece tutto quello che Dio volle fare con gli israeliti poi una volta fatta la volontà di Dio Dio punisce Nebuchadnezzar la malvagità che lui fece al popolo di Israele prima Dio gli dà l'ordine di fare del male fu un ordine di Dio poi successivamente Dio punì il re di Babilonia inviando altre nazioni per distruggere a sua volta l'impero babilonico il quale terminò dando passo ad altri imperi questa fu la parola profetica che si compì però qui stiamo parlando del servo quindi il Signore usa persone che hanno il cuore ottenevrato oggigiorno Dio fa la stessa cosa oggigiorno Dio usa qualcuno sia per il bene sia per il male Dio usa una persona per fare del male ad un'altra persona però poi Dio punisce quella persona quella persona che è servita per fare del male ad un'altra persona noi non dobbiamo mettere in discussione Dio e le sue scelte come Lui lavora cosa dobbiamo fare noi quando noi ci rendiamo conto che Dio è anche un fuoco consumante perché Dio si è amore ma è anche un fuoco consumante e quando i figli sono disobbedienti allora Dio castiga Dio punisce e Dio usa mezzi circostanze per castigare i suoi figli per provarli però poi Dio punisce anche gli strumenti che si sono prestati per fare del male ai figli di Dio tutto ciò è volontà di Dio il Signore lavora in questo modo e noi non possiamo mettere in discussione fare troppe domande perché Dio fa questo o quell'altro solamente dobbiamo amare Dio sopra tutte le cose sopra il bene e sopra il male sopra le buone azioni e le cattive azioni soprattutto quelle cose che noi viviamo vediamo e noi dobbiamo amare Dio ah il Signore ci ha punito ci ha castigato va bene continuiamo ad amare Dio questo è il nostro dovere amare sempre il Signore bene andiamo avanti buonasera sorella che il Signore la benedica la mia domanda si trova in Proverbi capitolo 22 verso 3 Proverbi 22 verso 3 verso 3 sì sorella l'uomo accorto vede il male e si nasconde ma i semplici vanno oltre e sono puniti sorella ci puoi insegnare questo verso? inoltre ci puoi insegnare riguardo alla prudenza perché il Signore attraverso la profezia ci dice sempre che dobbiamo essere prudenti verso 3 dice l'uomo accorto o saggio vede il male e si nasconde o fugge per non cadere in quel male quindi una persona accorta è una persona vigile una persona intelligente che agisce con sapienza e quando prevede che stanno succedendo cose brutte malvagie non cade nell'errore non cade nello sbaglio ma piuttosto fugge sta attenta a questa persona per non cadere in quella trappola in quel male che si sta tessendo davanti ai suoi occhi ma i semplici cioè quelle persone che diciamo che non si preoccupano che non riescono a superarsi che non riescono a fare le cose per bene che non vogliono fare nulla per misurare le proprie capacità che non vogliono superare se stessi le proprie difficoltà si fanno sempre aiutare dagli altri a questi semplici non interessano tante cose e questi semplici quindi cadono nella trappola cadono nel problema nella difficoltà perché non ragionano non pensano non analizzano questo è quello che significa il verso e noi dobbiamo analizzare questo verso e cercare di pensare analizzare anche le conseguenze future se io faccio questa cosa allora posso cadere in questo in quell'altro ci sono sì delle conseguenze anche funeste perciò uno deve essere prevenuto e cercare sempre di fare il bene e desiderare il bene quindi non essere dei semplici né degli stolti ma accorti e desiderare il meglio per noi e il meglio anche per il nostro prossimo e i nostri simili la prudenza invece è essere moderati e non agire alla leggera non comportarsi alla leggera non parlare alla leggera perché la prudenza significa anche pensare prima di parlare analizzare le cose prima di esporsi c'è un detto che fa pensa prima di parlare invece di parlare e poi pensare perché altrimenti diventi una persona imprudente oppure agendo facendo delle cose senza prima averci pensato che possono essere delle azioni incorrette che possono danneggiare anche gli altri questa è parte della prudenza la prudenza racchiude anche tante altre cose per esempio una persona che desidera essere prudente dice io voglio saggezza per saper parlare agire per non offendere nessuno così che io divento una persona prudente per non commettere nessun errore non far sentir male gli altri allora io voglio essere una persona prudente essere saggia e agire in un modo intelligente ecco tutto ciò si accompagna alla prudenza alla saggezza a fare le cose per bene andiamo avanti un'altra domanda buonasera sorella Maria Luisa che il Signore la benedica la mia domanda si trova nel primo libro dei Re capitolo 21 verso 27 primo libro dei Re capitolo 21 verso 27 sì verso 27 or quando Accav udì queste parole si stracciò le vesti si copersi il corpo con un sacco e digiunò si coricava avvolto nel sacco e camminava dimesso allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia il Tisvita dicendo hai visto come Accav si è umiliato davanti a me poiché si è umiliato davanti a me io non farò venire la sciagura mentre egli è in vita ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita del suo figlio la mia domanda si trova nel verso 27 quando dice camminava dimesso l'umiliazione di Accav fu fisica in quanto si copersi il corpo con un sacco e digiunò inoltre sorella come dobbiamo umiliarci davanti al Signore per ottenere la sua misericordia sì qui si parla dell'umiliazione di quell'epoca e qui il re Accav si stracciò le sue vesti e poi si coperse il corpo con un sacco di colore nero e poi digiunò fece tutto questo il re Accav e questo gesto era qualcosa che lo rendeva inferiore inferiore tutti gli altri persino inferiore al popolo e lui lo fece proprio per sacrificarsi per rendersi sì inferiore rispetto a tutti perché questo rendersi meno e inferiore rispetto a tutti significava umiliarsi essendo poi lui il re e tutto ciò lo fece per ricevere il perdono da parte di Dio quindi lui si straccia le vesti digiuna si ricopre il corpo con un sacco si ricoprì di cenere e si coricava avvolto appunto da questo sacco e camminava dimesso quindi si ricopriva di tanta tanta cenere e quella faceva parte dell'umiliazione che appunto il re Accav stava vivendo camminando anche tutto dimesso tutto ciò era l'umiliazione dell'antichità quindi questo re Accav divenne come un vile come la persona più umile del mondo essendo lui comunque un re e tutto ciò lo fece anche per mostrarsi a tutto il popolo e il popolo vedendolo così per un re era un'umiliazione e lo fece per ricevere il perdono da parte di Dio e Dio vide che Accav lo fece con sincerità perciò lo perdonò e non gli inviò il castigo nei giorni suoi ma nei giorni di suo figlio perché già Dio sapeva che il figlio di Accav sarebbe stato ancora più malvagio dello stesso re Accav e quindi la punizione non sarebbe ricaduta direttamente sul re Accav perché si è umiliato bensì sul suo figlio quindi l'umiliazione di quell'epoca era piuttosto fisica oggi giorno noi non ci umiliamo più fisicamente ma a livello del cuore quando noi ci sentiamo inferiori siamo semplici non siamo orgogliosi ci rassegniamo magari la gente ci insulta ci calugna però noi tacciamo proprio come faceva il Signore Gesù Cristo lui taceva quando fu calugnato vituperato quando gli sputavano in faccia e lo insultavano ma lui taceva non diceva nulla quindi lui cos'è che stava facendo in quel momento si stava umiliando e Gesù quindi si umiliò questa è l'umiliazione sopportare tutto il male tutto il male esteriore che può venirci addosso senza vendicarci senza punire nessuno senza fronteggiare nessuno né con parole né con azioni fisiche né con aggressioni questa è l'umiliazione quindi noi oggi la nostra umiliazione non consiste più come quella dell'antichità che era fisica e tutto tutto il mondo vedeva quell'umiliazione ma oggi noi ci umiliamo nel cuore noi infatti dobbiamo riconoscere davanti al Signore i nostri errori i nostri sbagli quello che facciamo chiedere perdono al Signore cambiare tacere sopportare non vendicarci non fare del male alle persone se queste persone comunque ci hanno fatto del male questo significa umiliarci davanti a Dio andiamo avanti sorella Maria Luisa non mi bastano le parole per dirle l'amore e la gratitudine che io sento nel mio cuore sorella il Signore attraverso la profezia ci assorta e ci invita a dargli il primo posto nella nostra vita quotidiana cerchiamo sempre di dargli il primo posto al Signore andando in chiesa ai culti di lode i culti di predicazione leggendo la Bibbia ma vorrei sorella che ci insegnasse riguardo a questo argomento perché il Signore in profezia ci dice dammi il primo posto che il Signore la venedica dare il primo posto a Dio è come il primo comandamento che dice amare Dio sopra tutte le cose e le cose sono iniziando da noi stessi noi siamo una cosa tante persone preferiscono per prima cosa i loro piaceri i loro diversivi prima di Dio se mi rimane del tempo allora lo faccio però per prima cosa io voglio soddisfare i miei piaceri per prima cosa voglio divertirmi voglio godere della vita e poi se avanza tempo vado in chiesa oppure cerco lo spirituale oppure prego così facendo non si sta dando il primo posto a Dio non stiamo amando Dio sopra tutte le cose altre persone invece dicono non vado in chiesa perché la mia famiglia me lo proibisce perché la mia famiglia diventa così mia nemica quindi io non voglio avere mio papà o mia mamma o mio marito o mia moglie come nemici non voglio avere problemi in famiglia allora non vado in chiesa e aspetto così facendo non si sta dando il primo posto a Dio ecco questi sono esempi della vita quotidiana nella quale la gente preferisce altre cose altri diversivi rispetto che con piacere il Signore invece di piacere e pensare al Signore poi cos'altro dire parliamo del peccato anche quando si pecca non si dà il primo posto al Signore perché quella persona cede alle proprie debolezze debolezze che generano peccato e quindi dà libero sfogo alla propria carne soddisfacendo la propria carne perché non ama Dio perché non ha dato il primo posto a Dio perché quando si dà il primo posto a Dio per compiacerlo allora la persona si astiene da commettere i peccati e chiede al Signore di togliergli o di toglierle quella tendenza quel peccato che è alla porta alla porta del proprio cuore e che lo fa o la fa sentire male e chiede al Signore aiutami aiutami a togliermi questo perché io voglio compiacerti è questo sacrificarci sacrificare la nostra carne le nostre voglie i nostri desideri per compiacere il Signore questo significa dare il primo posto a Dio perciò il primo posto al Signore consiste anche nel venire in chiesa e leggere la Bibbia sì però se qui dentro di me c'è qualcosa c'è un peccato occulto che io non voglio togliere non voglio riconoscere allora non mi serve stare tutti i giorni in chiesa e leggere la Bibbia perché non sto dando il primo posto a Dio perché il primo posto per Dio deve essere completo completo di quello che c'è qui nel cuore e da qui poi esternamente cosa c'è qui dentro di me per Dio magari ci sono persone che non possono venire in chiesa a motivo del lavoro dello studio però nel loro cuore c'è Dio perché nella loro vita c'è Dio e stanno facendo le cose che Dio vuole dando una bella testimonianza vivendo una vita retta organizzata compiendo con le proprie responsabilità e i propri doveri così facendo sta dando il primo posto al Signore sebbene non vadano tutti i giorni in chiesa perché non riescono quindi vedete con la vostra testimonianza state cambiando tante persone che vi stanno osservando e dicono questa persona è organizzata onorata saggia è una bella persona chi sarà questa persona guarda com'è quindi la gente ci ammirerà ammirerà i nostri buoni comportamenti così facendosi dal primo posto a Dio poi bisogna allontanarsi dal peccato e togliere il brutto che c'è qui dentro per compiacere il Signore bene compiacere il Signore ed è una cosa molto profonda non è solamente aprire la Bibbia e leggere e stare qui tutte le sere in chiesa anzi qualcosa di più profondo in verità è dare il primo posto al Signore e dire che amiamo il Signore sopra tutte le cose è questo la trasformazione il cambiamento è desiderare che il Signore stia sempre contento delle mie azioni che io non senta invidia rancore che non sia una persona epocrita bugiarda che inganna le persone perché a questo Dio non piace se io non ho queste caratteristiche non sono una persona sincera e non sto amando nel Signore né gli sto dando il primo posto se non compio i doveri all'interno della mia famiglia in qualità di marito di moglie se sono una persona irresponsabile vuol dire che non sto dando il primo posto al Signore perché qualcosa manca nella mia famiglia manca nella mia casa non sono responsabile e se non c'è responsabilità vuol dire che non stiamo dando il primo posto al Signore vedete amare Dio sopra tutte le cose racchiude tutti questi requisiti andiamo avanti buonasera sorella Maria Luisa che il Signore la venedica grandemente siamo molto gioiosi e le diamo la benvenuta la mia domanda si trova in evrei capitolo 11 il capitolo 11 parla riguardo alla fede ma la mia domanda si trova nel verso 35 e dice così le donne rievero per risurrezioni i loro morti altri invece furono torturati non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione non capisco questo verso sorella nella Bibbia ci sono racconti storici di persone che sono risuscitate ci furono tante persone che risuscitarono e la storia racconta anche che il giorno in cui morì il Signore Gesù Cristo quel giorno risuscitarono anche tante altre persone che erano morte uscirono dai sepolcri e si compie questo verso che tante donne riebbero per risurrezione i loro morti altri invece furono torturati perché non credettero e non ebbero fiducia nel Signore mentre chi ebbe fiducia nel Signore ricevettero tutti quei benefici come la risurrezione dei propri morti cioè dei loro cari morti il capitolo 11 di Ebrei è un capitolo molto bello parla della fede a volte le persone dicono che è difficile avere fede ma per esempio fratello di prima chiedeva quanti tipi di fede ci sono uno due o tre diciamo che c'è una fede che è credere nel Signore Gesù Cristo come il figlio di Dio come il Salvatore questa è una fede e questa fede viene dall'ascoltare o dire la parola del Signore qualcuno mi ha detto e mi ha insegnato che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è il Salvatore allora io ho creduto e lì proviene la mia fede nell'avere ascoltato udito creduto e accettato che il Signore Gesù Cristo è il Re ed è il Salvatore questa è una fede l'altra fede è il dono della fede il Signore dice che dà il dono della fede tra tanti doni che ci sono c'è il dono della fede e il Signore lo dà questo dono non a tutti ad alcuni cosa vuol dire che quella persona che riceve il dono della fede quando impone le mani o quando prega accadono miracoli perché è il dono della fede che sta agendo in quella persona che prega o che impone le mani quando il Signore Gesù Cristo diceva agli apostoli voi siete uomini di poca fede è perché gli apostoli erano insicuri e non credevano che uno Gesù Cristo fosse il figlio di Dio dubitavano ecco perché Gesù gli diceva siete uomini di poca fede ed è quello che accade oggi nella maggior parte delle congregazioni non hanno fede perché dubitano quando Dio fa una promessa e dubitate perché vi disperate vi angosciate e state chiedendo orientamento appoggio parlando all'uno a quell'altro per vedere chi vi risolve il problema dopo che Dio vi ha detto che vi aiuterà e che vi risolverà e che cambierà tutta la situazione e che voi dovete solamente stare attaccati al Signore che Lui fa tutto il resto se voi dubitate siete incerti avete questa paura e cercate aiuti umani allora lì mancate di fede e il Signore ci può dire uomo o donna di poca fede perciò bisogna essere convinti nel Signore se crediamo in un Dio vivente allora crediamo crediamo che quando preghiamo e che gli chiediamo qualcosa Lui ci concederà la benedizione o ci risponderà o ci concederà quello che gli chiediamo perciò non bisogna dubitare voi siete in pericolo per esempio e vi angosciate no no sono in pericolo state dubitando di Dio anzi dovete invece dire sì vivo in questo pericolo ma Dio mi proteggerà perché me l'ha promesso perché Lui è potente e io so che Lui mi aiuterà ad uscire da questo pericolo e a fare questo passo difficile nella mia vita questa è la fede la fede che è descritta qui in ebrei capitolo 11 una fede nella quale si ascolta della conoscenza di Dio e si crede in Lui che Dio esiste e se Dio esiste Lui ci ascolta Lui ci vede Lui agisce nella nostra vita e se Lui non agisce nel momento in cui noi desideriamo è perché ancora non ci conviene quindi bisogna aspettare e avere pazienza adesso mettiamoci in piedi fratelli e sorelle preghiamo il Signore preghiamo preghiamo il nostro Dio e siccome il nostro Dio è un Dio vivente che è qui con noi e siccome Lui ci ha fatto promesse e alcune ce le ha compiute allora noi crediamo che anche oggi ascolterà la nostra preghiera le nostre richieste le nostre necessità Amen non bisogna dubitare del Signore non dubitiamo non vi angosciate se voi non ricevete un'imposizione delle mani non preoccupatevi perché Dio è sempre al vostro fianco e Lui sa quello di cui voi avete bisogno perciò non abbiate paura non dite ah no siccome nessuno mi ha imposto le mani non riceverò niente oggi no Dio è al vostro fianco preghiamo ti lodiamo ti benediciamo grazie Eterno Dio grazie perché la tua benignità è così grande la tua benignità è per sempre il tuo amore è eterno le tue promesse Signore sono fedeli e veraci perché le tue promesse le vediamo descritte qui nella Bibbia tutto quello che tu hai promesso tutto tu lo hai compiuto attraverso i secoli attraverso le epoche attraverso le ere tu hai compiuto la tua parola e hai alimentato i cuori di uomini e di donne che hanno depositato la loro fiducia in te di coloro che hanno ascoltato la tua parola e si sono disposti a te e che oggi noi stiamo seguendo questo cammino questa via guardando l'esempio e desiderando con tutto il nostro cuore con tutta la nostra anima di prendere d'esempio tutti quei personaggi antichi che ti amarono che ti servirono ai quali tu hai dato potenza gloria e sostegno anche oggi Signore noi siamo qui davanti alla tua presenza per ricevere il tuo sostegno per ricevere la tua potenza l'autorità che tu ci dai l'autorità per lavorare nella tua vigna nella tua opera per riprendere il nemico per toglierci tutte quelle cariche che ci opprimono tutte quelle catene quei lacci quei pesi che il nemico vuole porre nella nostra vita e nel nostro essere siamo qui Signore con le tue promesse credendo e confidando in te e sperando in te e tu mio Signore stai sciogliendo tutti quei lacci e stai spezzando tutte quelle catene d'oppressione togliendo ogni spirito impuro dai corpi delle persone togli ogni malattia Signore togli ogni dolore togli il cancro togli Signore tutte le malattie incurabili togli Signore tutte quelle malattie come il diabete la sindrome di lupus malattie della pelle delle ossa togli tutti i dolori dell'artrite guarisci ogni persona guariscici Signore puliscici Signore concedi la salute il vigore perché tu li ami perché tu vuoi Signore che ognuno ti serva e che ognuno ti segua Signore e che ciascuno stia davanti alla tua presenza lavorando arduamente per il tuo servizio tu stai benedicendo Padre mio tutti coloro che confidano in te che ti acclamano che sperano in te che sperano in te Signore proprio come dei pulcini che aspettano l'alimento dalla gallina che li ricopre così Signore noi siamo qui come dei pulcini siamo così Signore e aspettiamo la tua mano potente la tua mano redentrice la tua mano che ci vivifica che ci dà vita sollievo forza che ci dà appoggio Padre Santo grazie grazie Signore grazie perché tu ti ricordi di tutti noi noi siamo qui questa sera davanti a te la tua presenza ma ce ne sono tanti altri credenti che ci vedono attraverso un video e loro vedono ascoltano questo insegnamento e anche loro Signore ricevono consolazione anche loro Signore si consolano con le benedizioni e con la tua mano potente stesa su di loro perché tu li aiuterai li sollieverai li restaurerai Signore e starai trasformando anche loro Signore e starai cambiando le cattive abitudini di ciascuno togliendo le macchie e il peccato pulendo liberando e distruggendo l'opera del nemico il diavolo Padre Santo che tutti ricevano le tue benedizioni che tutti ricevano i tuoi benefici Signore che tutti Signore possiamo partecipare del tuo amore della tua misericordia delle tue promesse della tua potenza che tutti possiamo partecipare della tua gloria grazie eterno Dio concedi Signore sollievo consola Signore dai allegria a ciascuno converti le anime mio Signore converti le anime Signore per il tuo servizio affinché tutti ti onorino tutti ti lodino tutti ti glorifichino tutti cerchino il tuo volto Signore e che tutti ci possiamo umiliare davanti alla tua presenza e ti glorifichiamo con gioia con allegria e desideriamo così fare la tua volontà e compiacerti in tutto sì mio Padre perché tu sei poderoso e la tua benignità è così grande e tutte le tue promesse che tu ci fai e che ci hai fatto le compirai alcune le hai già compiute mio Signore grazie Signore perché noi non meritiamo tutto ciò non meritiamo le tue benedizioni Signore non meritiamo le tue promesse Signore però il tuo amore è così grande che tu copri tutto e tutto riempi benedetto e l'ho dato il tuo nome nei secoli dei secoli grazie eterno Dio invia invia Signore il potere del tuo Spirito Santo e battezzaci col tuo Santo Spirito battezza tutti coloro che ancora non hanno ricevuto il battesimo spirituale battezza Signore concedi loro doni spirituali dai loro lo spirituale affinché essi possano cambiare nella loro vita materiale peccaminosa affinché siano trasformati Signore concedi lo spirituale affinché essi possano essere liberati liberati da quelle catene diaboliche da quegli spiriti immondi e che tutti gli spiriti immondi escano dai corpi Signore e che tutti gli spiriti immondi escano e che ci sia libertà e pulizia libertà Signore perché tu sei la nostra libertà Tu sei il nostro Dio il nostro Padre il nostro Creatore Tu Signore supplisci a tutte le nostre necessità Signore indirizza la nostra via spirituale correggici Signore cambiaci Signore Tu mio Signore sei poderoso grazie Padre grazie Padre per i miracoli per i segni per i prodigi per le guarigioni grazie inoltre per ascoltare le nostre richieste e per consolarci e per compiere i desideri dei nostri cuori grazie Signore perché tutto questo è alla Tua presenza tu sai ogni cosa tu puoi ogni cosa e sai quello di cui noi abbiamo bisogno ecco perché tu sei qui per benedirci Signore grazie eterno grazie Signore grazie nel nome di tuo figlio Gesù Cristo di Nazareth le lodi sono per te Signore gloria a Dio grazie fratelli e sorelle che Dio vi benedica che il Signore stia sempre con voi che il Signore supplisca tutte le vostre necessità e risponda a tutte le vostre richieste e desideri e che il Signore faccia tanti miracoli nella vostra vita e che voi siate ripieni di gloria di gloria in gloria sempre di più ogni giorno a presto Dio vi benedica grazie